Parcheggio Tiziano. Questo è il parcheggio a pagamento. E risulta aperto. Qualche macchina c'è. Quell'altro di là è il parcheggio libero. Oltre quella rete c'è ancora dello spazio per il parcheggio libero. Ma è chiuso. Non si può parcheggiare. Forse perché non ci si guadagna soldi. Parcheggio libero. Chiuso. Parcheggio a pagamento. Parcheggio aperto.